e adesso non ci stavo, fu il programmare dedicato a un angelo che da poco è volato via e da più in cielo salutiamolo con affetto che possa vegliare sui suoi cari e su tutta la comunità sanzese a te Maria questo brano di Albano Carlesi è la mia vita, il programma è la mia vita è l'alba, è un nuovo giorno il tuo sguardo perduto oltre i confini della vita il tuo sorriso proteso verso l'ignore un ultimo saluto e tu giovane mio adulto sei pronta a lasciarci un dolce ricordo mentre una larga lenta scorre e raggiunge i nostri cuori mi hanno se fuori ancora l'ora piena esco per toccare la mia terra è un'altra noce da ascoltare niente che ti fa capire questa vita poi per te se mi scuola in un silenzio fatto per pregare forse un dolore sale a carmi male ma è un momento che si tratta in un momento che lascia dentro tanto sveglio che si tratta in un silenzio fatto per pregare e va il mio pensiero sveglio sveglio e va che il mio pensiero sveglio sveglio se tratta in un'altra noce da lo in un'altra noce da e va che il mio pensiero e va e va e va e va e va e va Grazie. 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 Grazie.